È stato aggiornato dall'INA il documento con le indicazioni sulla vaccinazione nei luoghi di lavoro. L'atto precisa che nei punti vaccinali dovrà essere garantita la sussistenza delle condizioni di sicurezza e che gli spazi destinati alla somministrazione in azienda potranno essere utilizzati anche per la vaccinazione di lavoratori che appartengono ad altre imprese, come quelli che prestano stabilmente servizio presso l'azienda utilizzatrice.